eccoci ciao oggi parliamo di una cosa molto importante e abbastanza controversa quanta merce posso mettere in vetrina in modo che non sia pesante e in modo che sia bella accattivante elegante non c'è una risposta premesso che è convinzione comune che la merce che è in vetrina viene vista di più e quindi si dipende e quindi c'è la tendenza giusta solo fino a un certo punto che se metto merce in vetrina la vedono e la vendo quindi ne metto il più possibile così ne vendo di più questo è sbagliato c'è un punto di equilibrio che non è fisso dipende da una grandezza molto semplice chi è il mio target di clientela mi spiego meglio se io sono prada posso mettere su una vetrina di 4 metri una borsa e sarà perfetta equilibrata se io non sono prada e ho una fascia di clientela un target di clientela medio basso se metto una borsa solo non è bella quella borsa ma solo quella c'è da una sensazione di disassortimento di povertà di mancanza di scelta quindi la quantità di merce giusta è assolutamente legata al mio target più il mio target è elevato più posso permettermi di mettere poca merce di fare una vetrina minimalista di farla leggera di farla bella elegante questo non è più vero se il mio target si abbassa perché devo dare devo vendere una sensazione ai miei clienti di scelta di quantità e quasi associata istintivamente di conveniente questo è estremamente importante perché altrimenti rischiamo di soffocare la vetrina con troppa merce e di ottenere l'effetto opposto in ogni modo io non riuscirò mai a mettere in vetrina tutto il mio assortimento quindi non riuscirò mai a comunicare completamente tutta la bellissima merce che ho in negozio cosa faccio faccio una rotazione con un cambio frequente di vetrine riesco a mostrare nell'arco del tempo che può essere i 30 giorni il mese cambio due tre vetrine e quindi riesco a mostrare molta merce dando però una discreta leggerezza barra eleganza alla mia vetrina la mia esposizione